Una struttura che al momento giace come una sorta di relitto, non collegata da strade e soprattutto fuori dalla sua consona posizione, è il nuovo ponte sul Vomano che proprio oggi è stato argomento principale di un acceso consiglio provinciale. Il dibattito è vemente in alcuni passaggi, soprattutto tra i consiglieri d'opposizione Cardinale Pavone e quelli di maggioranza Scarpantonio e Pilotti. Di fatto è una vicenda dove tutti hanno torto e ragione al tempo stesso, dove la burocrazia è il terzo elemento che gode nel litigio con gli abitanti dei comuni di Castelnuovo e Cellino Attanasio, che fungono invece da vere vittime di questa diatriba, dovendo assistere ad una struttura nuova ma al momento abbandonata. La domanda è, resterà o no una cattedrale nel deserto? Abbiamo ravvisato che su alcune opere strategiche come quella del ponte di Castelnuovo non è destinata nessuna somma e questo sicuramente per noi è grande motivo di preoccupazione per il completamento dell'opera. A pochi mesi dall'insediamento di questa amministrazione, dopo tanti proclami sul necessità di completare le opere strategiche, oggi purtroppo prendiamo atto anche che questa provincia purtroppo sta abbandonando le opere strategiche, in primis il ponte di Castelnuovo, un'opera completamente persa dall'amministrazione di Sabatino di cui il delegato era Scarpantonio. Noi abbiamo avuto il coraggio, la forza e anche la capacità di riprenderla, abbiamo avuto la proroga del finanziamento, abbiamo rifatto una gara d'appalto, abbiamo avuto una ditta che è intervenuta e già da pochi mesi sul ponte sono arrivate le strutture metalliche e quindi in questi giorni si sta predisponendo già il montaggio delle strutture metalliche e naturalmente mancano delle opere complementari. Su 6 milioni messe a disposizione della regione Abruzzo non si farà il collegamento tra la 150 e la SP26 ma solamente il ponte e di cui manca anche lo stesso varo, quindi il progetto di varo del ponte di Castelnuovo. Quindi un'opera incompiuta, raccontata da consigliere cardinale e quindi ha ammesso lui stesso il fallimento di 4 anni da parte del Presidente di Buonaventura sulla propria strategica di Castelnuovo. Mancano tutti i collegamenti, circa 4 milioni di euro gli uffici hanno stimato la somma che manca per completare, rendere l'opera fruibile da parte dei cittadini, quindi è necessario che la provincia vende in campo delle sorsi importanti insieme a regione Abruzzo per completare l'opera.